Marana è un giocatore su cui conto da tanti anni, all'inizio dell'avventura era qui, il peccato che si sia fatto male non abbia partecipato all'Europei, ma fa parte comunque sia del gruppo e dell'ogico che torna, ha esperienza di alto livello, ormai 3-4 anni con il collettivo, con l'Igl e con l'Igl. Marana è un giocatore su cui conto da tanti anni, all'inizio dell'avventura era qui, il peccato che si sia fatto male.